Il mister Davide Stefani nel dopogara nel centro di questo terrestre che esorge da mister titolare, oggi ha sostituito il mister Magrini, si sentiva la patrini, non è più urla, però sono i ragazzi che hanno dato una grande soddisfazione, una soddisfazione importante nel gioco, peccato che l'entità minera, la prima miniatura, non contano tre punti. Sì, come ho già detto, contano tre punti per la mole di lavoro che svolgono molti ragazzi in settimana, è una vittoria, ti dà morale, ti dà quella voglia di continuare in un lavoro importante, quello che stiamo facendo. Partita difficile, ma nei primi minuti, come ho già detto, facciamo fatica nel capire che non sempre si può giocare al pallone. Questa è una strada che ama e gli piace giocare al pallone e va bene, però ogni tanto serve la vecchia pallonata verso le punte e rincorrere il pallone. Ecco, dobbiamo capire quando serve quel tipo di gioco in decena. Se una fine c'è stato proprio l'intervenza di Gorelli decisiva a 94 anni. Più che altro, dato che colpisce, perché questa squadra arriva sempre in l'area avversaria, tantissimi calcitanti, anche oggi 13 calcitanti. Però poi insomma, noi stiamo bene, questo è il problema, non siamo bene, abbiamo stupato di nuovo. Ma sai, dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori che hanno. Noi infatti lavoriamo tantissimo sui tronchi e sull'apparto della porta. Vorrà dire che ci dobbiamo lavorare ancora per, non dico snaturare, ma per far capire la periodosità di certo pallone. Ma l'allenamento serve a spesso per lavorare dove i ragazzi magari non arrivano. Ma ci lavoreremo in un momento di tempo. Grazie.